Per noi DataDriven è stato un motivo di studio per capire nelle università e nei studi di ricerca che cosa voleva dire per loro la parola DataDriven. Noi l'abbiamo tradotta e l'abbiamo fatta diventare un nostro comandamento. Per noi DataDriven vuol dire il dato comanda. Questo approccio ci permette poi di lavorare con l'utente finale dei nostri cruscotti e tutti i sistemi di advanced analytics che facciamo in modo diverso perché approcciamo il dato facendolo parlare. Le informazioni sono contenute nei dati, cominciamo a studiarli, capire le informazioni che sono presenti, la qualità del dato che abbiamo a disposizione. Questo lo facciamo con l'utente finale per insieme arrivare al risultato finale che deve essere naturalmente quello che lui ci ha richiesto. Per cui per noi DataDriven è un comandamento. Il dato comanda. Da lì si inizia e si può proseguire con le varie procedure e metodologie per arrivare al risultato finale. Negli ultimi due anni l'approccio nostro che cerchiamo di portare sul mercato è la visualizzazione del dato, la data visualization. Perché un'immagine vale più di mille parole. Per cui tutto il frontend che noi facciamo per l'utente finale è un frontend che viene studiato e disegnato assieme a loro. Questo ci permette di avere una grafica che, passiamo il termine, non esiste sul mercato. Non è un classico grafico a torta o un grafico lineare. Sono grafici che contengono molte informazioni. Per cui da cruscotti che normalmente sono composti da dieci o più schermate, riusciamo a ridurle in una o due schermate. Per cui le informazioni sono immediatamente comprensibili all'utente e facilmente comprensibili a chiunque. Questo è uno dei punti forci. L'altro è il linguaggio che abbiamo cambiato negli anni con questi utenti. Quello che oggi viene definita data literacy. Riusciamo a comunicare e portare avanti i progetti insieme agli utenti in modo tale da raggiungere il risultato che ci è stato richiesto. Questo ci permette oggigiorno di portare a casa tutti i progetti. Per noi failure is not an option. Noi vogliamo continuare sulla visualizzazione del dato, oltre che la matematica, i modelli matematici, tutto quello che può essere dietro quello che è la registrazione del dato fino al frontend, cioè all'utilizzo finale, con una realtà aumentata. Stiamo studiando di approcciare la visualizzazione del dato attraverso degli occhiali, che in questo momento sono quelli della Microsoft, per mostrare tutti i dati contemporaneamente all'interno di una stanza. Questo permette all'utente finale di poter navigare il dato in qualsiasi modo e di collegarli in qualsiasi modo. Infatti il modello sotto è un modello associativo che rispecchia il modo di pensare delle persone. Per cui il modo nostro di muoverci all'interno dei dati attraverso queste maschere ci permette di raggiungere qualsiasi obiettivo e qualsiasi informazione, collegando qualsiasi cosa. Cosa vuol dire collegando qualsiasi cosa? Nel mondo del data lake o di quello che può essere il big data, una delle dimensioni principali di analisi è il cliente, perché il cliente è un'informazione collegata a cosa fa il cliente, a un'anagrafica, a qualcuno che fa delle attività su questo cliente e così via. Per cui partendo da queste dimensioni comuni all'interno del big data, riusciamo a collegare tutte le varie informazioni e a mostrarle in modalità molto spinta quasi da telefilm, nel senso che cerchiamo di essere all'avanguardia. Quello che è il nostro desiderio è essere una boutique per la advanced analytics e la business intelligence.